E' bello a tutti ragazzi, sono Ico di Pardino, oggi siamo in questo video Oggi ragazzi per un video molto speciale, rialcio io e Lazio E ragazzi speriamo di vincere perché oggi, perché ragazzi non voglio cominciare ad albiarmi Prima di inizio ragazzi lasciate il like, iscrivetevi al canale, attiva la campanella E' bello nel suo altro video e iniziamo questo rialcio, scusate E' angolo Dai, che angolo Dai E' rigore, ma questo è rigore, oh, è rigore per noi È rigore per noi Ragazzi, se sbaglia io faccio così fortissimo Quindi rimani così Ti prego Se non è, va Vai, 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 vai Vediamo che dice, ragazzi mi sa che forse è fuori gioco E' fuori giochissimo Eh, vediamo, scusate Eh, forse è fallo d'attacco, siamo a E' fallo d'attacco E' fuori gioco E' fuori gioco Eh, ragazzi, non rigore E' da scusare Vai Ah Ok, ma così mi fa male Ragazzi, riferi non è concesso Prontizza E' da scusare un'altra Puglia di Azzurri Ma sul interno Porto Isaxen sinistro Mamma mia Cioè abbiamo rischiato il risalzo Un'altra Il risalzo 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 per la sua chiesa la chiesa e poi la vita nessuno la città il mio avviso l'italia su un suo tavolo di suo ammorto per l'auce molto importante chiesa di un'esercizio di un'esercizio un'altra Fai l'attacco, ragazzi, con qualità del giorno Ragazzi, finisce il primo tempo, 0-0 tra Juve e Lazio E ci vediamo nel secondo tempo Ragazzi, iniziamo il secondo tempo, 0-0 Speriamo di prenderci, forza Juve Dai, gol, dai, gol, hai chiesto me, no, no Dai, abbiamo sbloccato Dai Dai Dai, 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 vai Dai, dai, giù Dai, 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 dai Dai, 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 dai No, 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 no Aspetta, vai No No, da' molto tempo, no, stai qua No, stai qua, vai Grazie E poi 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 7 9 9 10 10 10 10 i 12 12 i 12 benedì 2-0 senti che puzza, ti ha puzza un culo ma levate proprio ti devi spostare 2-0 fate costi cioè il calcio tanto sentimi guarda che regalino oh vabbè scusate ragazzi è il busto mio mamma mia c'eravamo quasi per il 3-0 vai bravo 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 vai wea nooo c'eravamo quasi raga però bravo wea bella difesa però è bella difesa ragazzi stanno scendo costi edizio e meccani entrano a alexandro e alcaraz questa parte però ve la devo togliere perché sennò è peggio vabbè anche la storia ragazzi 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 abbiamo vinto 2-0 ragazzi abbiamo vinto 2-0 ragazzi abbiamo vinto 2-0 ragazzi